L'odierna operazione dei carabinieri della compagnia di Augusta ha consentito di azzerare lo spaccio di stupefacenti nella città megarese. Gli spacciatori si rifornivano dello stupefacente nella città di Catania e per erudere i controlli da parte dei carabinieri utilizzavano delle autovetture prese a noleggio. L'indagine si è sviluppata nei primi sei mesi del 2020, in pieno lockdown, ma questo non ha fermato l'attività criminale degli spacciatori ad Augusta. Grazie a tutti.